e a proposito di ricette facili oggi realizziamo la stella natalizia con sfoglia vedrete quanta semplicità nel realizzare questa ricetta ma quanta quanta bontà cominciamo subito iniziamo subito col preparare una placca e all'interno un rotolo di pasta sfoglia rotondo quindi andiamo a fare dei tagli arrivando quasi fino al centro quindi 124 anche da questo lato anche da quest'altro e la stessa cosa dagli altri due eccole qua ok lasciamo il coltellino quindi qua abbiamo poi 175 grammi di filadelfia o crema formaggio spalmabile e lo andiamo a stendere su tutta la superficie e dopo averlo steso per bene qui abbiamo delle olive verdi denocciolate e del prosciutto cotto a pezzettini le olive le potete mettere anche nere denocciolate ora che facciamo al centro di ogni taglio andiamo a mettere un po di prosciutto cotto ora metto un'oliva di prosciutto cotto ne ho messa soltanto una fetta tagliata a piccoli pezzetti mettiamo le olive dopodiché prendiamo le due estremità del taglio le facciamo incontrare guardate qua e creiamo un angolo andiamo a pigiare con i polpastrelli chiudendo la sigillandolo e così facciamo con tutti gli altri ora lo stesso lavoro di prima cioè i tagli che abbiamo realizzati all'estremità di facciamo al centro quindi prendo l'oliva per ogni angolo vedete quindi quando abbiamo messo quando abbiamo messo un'oliva per ogni angolo andiamo a portare l'estremità prendete l'angolino guardate qua tenete l'oliva e fate questo lavoro stessa cosa con tutti gli altri ora tagliamo dei pomodorini a metà guardate dopo averli lavati e asciugati e li mettete tutti intorno intorno creando una corona ora taglio l'oliva a metà e la vado a mettere negli appositi spazi tra un angolo e l'altro stesso lavoro anche sui margini degli angoli quelli principali schiacciamo tutti gli angoli queste estremità in modo da far sembrare una vera e propria stella poi in questa ciotola vedete che abbiamo un po di latte mi raccomando pochissimo andiamo a spennellare tutta la superficie ora diamo una spolveratina di sale e ora diamo una spolverata di semi di sesamo potete scegliere anche semi di lino a vostro piacere la nostra stella è pronta per essere infornata in forno preriscaldato 180 gradi statico e andiamo a cuocere per 20 25 minuti e noi ci vediamo all'assaggio ricordate sempre che ogni forno a sé ognuno di noi conosce il proprio forno a dopo e guardate guardate che bella guardate che bella ma che figurone non farete il giorno di natale guardate che bella una meraviglia una meraviglia è caldissima l'ho adagiata nel piatto vado a togliere la decorazione e guardate in tutto il suo splendore bella bella proprio allora io vado aspettate che così mi faccio vedere meglio vado a prenderne un pezzo è caldo caldo ma come tanti in tanti sapete io adoro le cose caldissime quindi preferisco che spettacolo mamma mia allora questo è un antipasto può essere un aperitivo può essere uno snack uno può essere tutto questo ma se lo fate anche per i vostri bambini guardate che meraviglia uno spicchio ciascuno ai vostri commensali sarà veramente una serata eccezionale o una giornata eccezionale grazie a tutti di cuore da Tiziana Manimpasto con questa stella meravigliosa grazie vi voglio bene grazie di cuore per tutto perché ogni tanto mi piace ringraziarvi particolarmente per tutto ciò che fate per me e per i commenti meravigliosi che mi lasciate ciao da Tiziana Manimpasto